musica 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 andiamo a cercare le porte musica 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 Ah, me lo segnavo ora, vabbè, è troppo facile così. Siamo ancora quelli? Sì, non li prendo. Ok, siamo già arrivati. Oh, quante cosette, però tesoro, pensavo qualche boss. Potete avvalare a preghiera, non male, soprattutto in hard mode. Penso che potrebbe rinternare molti hard mode. Perché come ho capito si consumano i PM e non si possono ricaricare per la scappatoia. Via tema? Oh, i PM massimi è la magia. Questo sarebbe male per... E infatti ce lo piazzo subito. Siamo avanti. Chiara ai rubini? Che cosa? Era un oggetto, non lo fa tanto a vederne, sono distratto. E qua non c'è l'oggetto. E qua non c'è l'oggetto, non c'è l'oggetto, non c'è l'oggetto, non c'è l'oggetto. Ah, ecco la tiara dei rubini. Hm, servirà qualcosa poi. Un oggetto speciale. 000. Oh, che messa da giro è bellissimo. Ok, ho preso tutto. dovrà aver visto l'altro no c'è un giocobino da queste parti qua è più vicino sì, qua dietro sì, andiamo se è voluta la materia che ce l'aveva ahah qua le switch è un po' alla volta man mano le diventano clano al massimo agenziale le fogne come cazzo ci è arrivato vorrò girarmi il mercato murato come cazzo ci è arrivato vabbè 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 bloccato bloccato se non era qua era poco più avanti no no era qua vabbè 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 In chiaro, il motore rigira quasi tutto! Tutte le location! Non c'è più! Se sto lontano, non c'è più! Oddio, non sto così lontano! Cioè, possiamo fare proprio a piedi, dai! Avrà che carica! Va bene, sì? Sì! Mi rincontriamo qualcuno! Non c'è più! 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 Ehi, come male ci sono passato! Non c'è più! Ok! Ecco, da qualche parte si va nei fondi, penso da qui perché non c'era niente! Ah, cazzo, qua ci saranno tante missioni, poi ci fermiamo... No, non ci fermiamo qui perché poi dobbiamo tornare dalla vecchia! Ehi, questi uffici! Onde si va? Allora più avanti, a destra! Eh? Era qua? Sì! Qua probabilmente si fa le funne Ok Questa canta me ajuda a me desfavar depois de um longo dia de trabalho Você parece um pouco cansado Aqui, escuta Ok Eh, no, 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 não se fassa aqui O que é? stavo sbagliando giustamente non passavo no 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 qua è dove mi trovo stavo per rinchiappettarmi i soldi a sinistra cioè credo almeno nell'originale si scalava il muro lì e qua devo andare ma però anzi va vaffanculo e vuole rimanere in sospeso e dove si entrava l'ifogno ma è qua vando avanti con la storia però mi sa ma come faccio come ci vado alle fogne senza andare avanti con la storia che mi ha sganciato lui o devo tornare al cimitero dei treni come ci vado al cimitero dei treni oppure devo tornare alla diva aspetta però ho tornato alla diva perché se no secondo me devo passare qua va giù dovremmo tornare alla chiesa vaffanculo però diventa abbastanza lunga pure questa questa è stata un giro No, 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 no. No, 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 no. Come mi sposto? Non mi sposto. E voglio pure dal settore 7, in teoria, però... ...e dal settore 6. Però se non mi fai della mappa... ...com'è che cazzo lo capisco? E niente, questa me la tengo per dopo questa missione che devo fare. ...e faremo una seconda parte. E torniamo di nuovo a... Torniamo al mercato, che ci sarà sicuramente qualcosa da fargli. Eppure qui, magari... ...periamo prima qua. Sì. Magari dal settore 6 c'è qualche zona... ...d'andare... ...d'andare nelle fogne. Ah, sembra che queste zone qua mi fai vedere, però. No. 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 ... ... ... ... ... però vedete qua se posso fare qualcosa c'è una missione un'occhiata qua un cazzo di niente vediamoci va troverò prima o poi passaggio per le forne adesso vediamo qualche altra missione qua aspetta aspetta assaggio sotterraneo ah no era l'uscita addirittura No, no, qua non so le fune, purtroppo, e tenendo premuto alle 1, ah, vabbè non c'è la scheda. A meno che da qua non ci si arriva, poi, in qualche modo, aspetto ad arrivarci mentre faccio altro, intanto facciamo altre missioni. Grazie. 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 Grazie.